Roma, l'antica Grecia, tutte le democrazie falliscono, perché le persone sono stupide. Però se opprimi le masse, chi erigerà i monumenti? Chi ti leccherà il culo? No, i popoli tendono a distruggersi con le proprie mani. Basta una spintarella. E poi potrai pionmare giù dal cielo per salvare il mondo. Come Cesare? Come Cesare. Oh, cavolo no. Chi vuole le palle schiacciate? Io? La tua squadra? Che nome aveva? The Boys. Oh, a che cazzo è venuto in mente?